Sì, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Mario e oggi siamo tornati con il sesto episodio di Minecraft È troppo presto per iniziare ad andare nel nether, quindi ragazzi io temporaneamente chiuderò il portale Per adesso io lascerei stare la colonia, quindi ora quello che volevo fare era tutt'altra cosa Cioè costruire nuove case, nuove cose, nuove case, nuove robe Allora, prima di tutto volevo iniziare a vedere qualcosa che potrebbe piacere Allora, praticamente è una scuola diciamo La scuola sarà situata nel villaggio di là Perché di là non ho fatto quasi niente Ho fatto molte cose di là ma di qua quasi niente Quindi la scuola sarà situata in questo villaggio Qui ragazzi, qui è il posto migliore Allora iniziamo prima con la stradina Bene, ora ragazzi in poche parole inizia la vera e propria scuola Allora, come andremo a farla? Prima di tutto prendere questi che sono le lastre di quarzo Poi andare a prendere, sono indeciso però io ragazzi decido di prendere la lastre di pietra Perché è sempre tutto con la cobblestone fa un po' più antico Quindi è molto più chic Cioè, sì, sì, ok Allora, qua andiamo a Adesso a fare con la lastra di quarzo Una cosa così Va bene ragazzi in poche parole Questo è il contorno della scuola Ora però dobbiamo renderlo piatto D'accordo ragazzi, ora che abbiamo finito il perimetro Possiamo andare a fare le stanze sostanzialmente Allora, in pratica questo è il corridoio Le stanze saranno ovviamente sei Questo invece è dove ci sono praticamente i colloqui e tutte le cose Quindi qua, bancone Allora, questo bancone sarà proprio Semplicissimo Poi ci saranno Dove sono? Per non far uscire l'impiegato, il villager che fa quelle cose lì Doviamo fare, dobbiamo alzarlo ancora così Perché se no salta il blocco e se ne va via Ora vi mostro, guardate Vedete? Così non scappa Ora, andremo a fare la prima classe Allora, prima di tutto Ok, molto semplice È una cosa semplice ma diventerà davvero Oddio, vi piacerà davvero Da morire vi piacerà Allora, mettiamo due porte di cuarcia nera E dentro ci sarà la vera e propria classe Allora, cosa andremo a fare? Prima di tutto ragazzi, sicuramente non può che mancare il banco del maestro Il banco è molto intelligente il mio italiano Ok, molto sempliciotto Poi Qui ci saranno i banchi dei ragazzini Allora, li facciamo da due Uno e due Ok, molto semplice Ora mettiamo le sedie Andiamo a inserirle da tutte le parti Una qua Per i presi Dove ho messi Vabbè Ragazzi, io oggi non ci sto con la testa Ok, ragazzi Sostanzialmente questa è la classe Ora andremo a chiuderla Ok, ragazzi Sostanzialmente La classe È questa Ci sono un po' di banchi Lì si siede il maestro Tec, tec, tec Il tetto ancora non lo facciamo Perché non ho Molto chiaro se farlo In un materiale o in un altro Ora dobbiamo fare la stessa cosa Però dall'altra classe Non chiedetemi come io Abbiamo magicamente cambiato Il vestito e la postazione Ok, ragazzi Siamo riusciti a fare anche L'altra stanza Ora, ragazzi Dobbiamo passare alle scale Allora, in poche parole Queste erano Prima E e Prima F Andiamo a metterci il cartello Con su scritto Prima E e Prima F Prima E Fatto Toh, prima E Ora andiamo a scrivere La prima F Fatto Toh, prima F Prima E e Prima F Sono state complitate Con successo Sì Ora, ragazzi Una cosa che mi sono dimenticato Dobbiamo fare il bagno Eh, già Ok, ragazzi Il pavimento del bagno È finito Finalmente, ragazzi Guardate Che bella roba è Che bella roba è L'unica cosa è che ci scivola Leggermente Vabbè, allora Andiamo a prendere Per il bagno L'occorrenza Subito, ragazzi Allora, prima di tutto Calderone Andiamo a prendere Andiamo a prendere Il calderone Calderone Che poi non sembra un calderone Quello Però Non facciamoci Dove Facciamoci Dove Acqua Acqua Il veleno mortale Ok, l'acqua Allora Andiamo a mettere Un doppio calderone Perché Dobbiamo fare Prima di tutto Dobbiamo fare Prima di tutto Il lavandino Perché Il lavandino Ok E ok Lavandino Completed Ora, ragazzi Iniziano i veri e propri Bagni Allora Saranno piccoli Lo ammetto Uno per due Saranno Spero di non fare niente Non mettere cartelli Ok, bravo Ora Prendiamo La roccia No Sapete cosa Però la roccia Non mi sembra Proprio Materiale Aratto Aratto Adatto Io metterei Sinceramente Ci sono Dei Prenderei Allora Per la mia opinione Andrebbe benissimo Lastra di coso E Subito Subito dopo L'asta di Altro coso Quindi Altro coso Ok Allora Adesso andiamo a fare Una roba del genere Spero Funzioni Ecco Ecco Questo non è quello Che volevo fare Sì Ok ragazzi Modio decido di farli Con i ciottoli Allora Impraticamente Sarà un uno per due Come avevo detto Ora Andiamo a prendere Di nuovo il calderone E di nuovo L'acqua Perché No Prima di tutto Le porte Le porte Qua le porte Che sono cose belle Le porte Le porte Mettiamo questa Di betulla Così non si vede Quello che c'è All'interno Giustamente Cioè Porta E porta Ok Simpli 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 E dentro Il bagno Ovviamente Spacchiamo Quel blocco La Sotto C'è Se vedete Una piccola Cavernina Non dite Che è Proprio Una cosa Naturale Perché ho fatto Esplodere La TNT Per togliere L'erba E mettere Il legno Ho fatto Un po' Di casino Però è Ok Allora Prendiamo Di nuovo Il calderone Quindi The calderone Is on my hand And The acqua Is on my hand Ok Prendiamo Il calderone E ce lo mettiamo Lì Dopodiché Mettiamo L'acqua Semplice Semplice Così Samplice Samplice E poi Per tirare L'acqua Perché si deve Tirare l'acqua Diventa verde Sennò Diventa verde Bottone Semplice Un bottone È molto Funzionale Ed è anche Non prende neanche Troppo spazio Quindi qua Bottone Tac Finito Questo è il bagno Ok Ce l'abbiamo fatta Il bagno Sinceramente Bagno 5 stelle Apriamo le porte Ed ecco qua Troppa roba Ah Davvero È fortissimo Sto bagno Sto bagno Mi piace troppo Ragazzi Sto bagno Mi ispira Per le ragazze Ragazzi Che sarà Nell'altra parte Della scuola Quindi le ragazze Della prima F Per Le ragazze Della prima F E i ragazzi Della prima E Per andare in bagno Ne dovranno Scarpinare Un po' Allora Sì vabbè Se ti giri Magari Però Ok Allora Chiudiamo le porte Come fanno i gentili uomini E anche i villager Allora Vedete Il bagno Sinceramente È questo Solo che L'unica cosa È che Se c'è il ghiaccio Perché Secondo calcolo È uscito il blocco di ghiaccio Lì Puoi Rischiare Di cadere Dentro il water Però Questa è Una cosa a parte E qua Ci sono due caldorini Che fanno Da lavandini Una finestra Che dà un po' di luce Al tutto E Ragazzi Lo so Sono un genio Assurdo Ste cose Non le sa fare Nessuno Non le sa fare Comunque Madonna Quando deve fare così Sta porta qua Ah Lì ho inserito La doppia porta Ma di qua Io non mi ricordo Se ho fatto lo stesso Sì ok Ho fatto doppia porta Pure qua Ora ragazzi Da Da così A così Questa Diventerà La seconda E A così Ragazzi Siamo riusciti A fare Un'altra classe La seconda F Se venite in mezzo Solo un gruppo Di quattro banchi È perché Rove Sì Sì Ma ora ragazzi Passiamo ad altro A questo punto Io direi Di fare la cosa Speculare Da quest'altra parte Quindi A parte un po' Di modifiche Al bagno Delle donne Per carino Di modifiche Che Di modifiche Di modifiche Grazie a tutti